Ad oggi l'impegno di presentare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, piani industriali. È chiaro che, come è noto, la FIOM non ha mai apprezzato molto la scelta di vendere Ansaldo. Come FIOM abbiamo sempre sostenuto l'idea che era utile la costruzione di un polo dei trasporti nazionali e di una politica nazionale. Detto questo, quello che pensiamo è che è necessario che gli impegni presi ad oggi verbalmente siano nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, confermati. Affinché il processo di integrazione sia davvero un processo di integrazione che qualifichi le competenze che esistono nel nostro Paese, sia nel costruire, sia sul sistema di segnalamento. Ed è chiaro che per quello che ci riguarda questo non può essere un problema solo dei lavoratori dell'azienda, ma questo deve essere un problema nazionale in cui anche le istituzioni e il governo debbono giocare fino in fondo alla loro parte. E questo è il modo con cui pensiamo di muoverci nelle prossime settimane. Cosa vi aspettate dal piano industriale che dovrebbe essere presentato nei prossimi mesi? Beh, ad oggi il carico di lavoro naturalmente è un carico di lavoro che riguarda ciò che già era acquisito. Quindi il piano industriale per quello che ci riguarda deve essere in grado di, nei prossimi periodi, nel prossimo mese, acquisire nuovi lavori. E soprattutto confermare la strategicità dell'intervento che Itacci ha fatto con l'acquisto e con l'idea di avere delle produzioni nel nostro Paese. Quindi di essere di fronte ad un'operazione industriale vera, non di indebolimento, ma di rilancio delle capacità produttive del nostro Paese. Per quanto riguarda il contratto nazionale, andate uniti? Sperate di strappare qualcosa? Ma sul contratto, come è noto, ci sono piattaforme diverse. Noi oggi come Feoma abbiamo illustrato la piattaforma e abbiamo chiesto ai lavoratori metallomeccanici di approvarla. La trattativa è una trattativa unitaria perché siamo tutti al tavolo, il nuovo incontro c'è il quattro. Noi andiamo lì con l'obiettivo di ricercare un'intesa e di superare la pratica degli accordi separati. Abbiamo avanzato delle proposte, anche nuove, come la contrattazione annua del salario, come il diritto alla formazione. E allo stesso tempo diciamo che per evitare gli accordi separati bisogna applicare l'accordo del 10 gennaio che misura la rappresentanza, quindi ogni sindacato deve contare per gli iscritti e per i voti che ha e soprattutto le lavoratrici e i lavoratori debbono essere messi nella condizione di votare, di decidere su qualsiasi accordo e questo deve essere un impegno anche di Federmeccanica. Non è facile, non è scontato. Ad oggi le posizioni espresse da Federmeccanica non lasciano intendere che c'è la possibilità rapida di fare un contratto. Va tutto riconquistato e quindi noi ce la metteremo tutta. In questo senso abbiamo, come sapete, organizzato per il 21 di novembre, sabato, a Roma, una grande manifestazione. Invitiamo i metallomeccanici, ma non solo ad esserci, sia per sostenere il contratto ma anche per cambiare la legge di stabilità del governo perché per affrontare i problemi dell'occupazione noi chiediamo delle cose precise. Che gli aumenti che vengono dati nel contratto nazionale siano defiscalizzati e pensiamo anche che sia venuto il momento di rimettere mano alla riforma delle pensioni. Bisogna ridurre l'età pensionabile, ripristinare per i lavori più pesanti le pensioni d'anzianità perché questo è il modo per creare posti di lavoro e soprattutto bisogna fare ripartire gli investimenti. Se si vuole creare lavoro servono piani straordinari di investimenti pubblici e privati e serve soprattutto che il governo faccia pagare le tasse e faccia davvero una lotta all'evasione e alla corruzione.